Massimo Ragneri, seudonimo di Giovanni Calone, è un cantante, attore, conduttore televisivo e regista teatrale italiano. Attore di teatro, cantante di musica leggera e showman in genere, si è dedicato occasionalmente anche al cinema e raramente al doppiaggio. Massimo Ragneri, fin dai suoi esordi nel panorama musicale italiano, ha dimostrato passione e dedizione al suo lavoro e all'arte. Infatti, il cantautore ha dedicato la sua vita non solo alla musica, ma anche alla recitazione, al ballo e alle tourne e teatrali dimostrando di essere un artista a 360 gradi. Durante un'intervista rilasciata a Fanpage, Massimo ha ammesso di aver trascurato la vita privata per dedicare le giuste attenzioni alla sua professione. Difficile seguire qualcuno che fa un lavoro che lo porta sempre in giro. L'amore finisce e ti ritrovi solo. L'amore per il mio lavoro l'ho sempre messo davanti a tutto, secondo alcune indiscrezioni. Pare che Massimo Ragneri abbia riconosciuto un altro figlio come legittimo, ma questa volta si tratta di uno dei volti più famosi a livello internazionale, ovvero Tiziano Ferro con cui Massimo ha sempre avuto un rapporto speciale. Moltissimi fan hanno notato anche l'incredibile somiglianza, ma a svelare la realtà dei fatti ci hanno pensato i diretti interessati. Tiziano Ferro ha ammesso che vede in Massimo una figura paterna, ma tra loro non c'è alcun legame di sangue. Nonostante tutto, i due cantanti provano un grandissimo affetto reciproco.